Prego. Grazie Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo. Stiamo discutendo il principale atto di definizione della politica economica nel momento più difficile per la nostra nazione. Chissà che diranno di noi. L'Italia è prima al mondo per il numero di morti per Covid-19 rispetto agli abitanti. In Italia risultano 111 decessi a ogni 100.000 abitanti. Seguono Spagna con 104, Gran Bretagna con 99, Stati Uniti con 94. Conte ha cercato una giustificazione. Siamo il Paese con più numero di anziani e tutti in casa. Il mondo surreale di Conte si scontra con la realtà. I dati? Il Giappone, il Paese più vecchio del mondo, conta 190.950 casi positivi. I morti sono 2.661. L'Italia ha 1.906.377 casi positivi e 67.220 morti. Le terapie intensive non ci sono, lo dice il Presidente dei Medici Ospedalieri, Carlo Palermo. I posti di terapia intensiva disponibili oggi sono 7.500. Di questi però, circa il 60% è occupato da malati gravissimi, non Covid. La soglia del 30% indicata come livello di allarme di posti letto di rianimiazione dedicati al Covid è di circa 2.300, mentre i pazienti sono già oltre 3.400. Aspettiamo chiarezza sulle commesse di Arcuri sulle mascherine. Un bando da 100 milioni attribuito a un suo collaboratore che ha fondato un'azienda ad hoc qualche giorno prima dell'assegnazione. Aspettiamo chiarezza sulla vicenda della Procura di Bergamo, su guerra e sul piano pandemico mai aggiornato. I DPCM e i DL sono deliranti. Lo storico barbiere di Palazzo della Scimmia, qui dietro, si è visto arrivare quattro volanti perché aveva una persona in più nel suo locale. 800 euro di multa, 5 giorni di chiusura. Nulla da dire, ovviamente, sul lavoro delle forze dell'ordine. Fanno il mestiere che devono fare. Ma questi DPCM sono un delirio. E intanto, nel centro storico di Roma, vicino alla stazione Termini, centinaia di fissa di mora e extracomunitari stazionano senza nessuna misura sanitaria. E così a Milano, così a Palermo, così a Torino, così a Cagliari, così ovunque. Noi siamo sempre con quel barbiere. Alla fine cosa ha deciso il governo per Natale? Conte ha giocato con i colori. Rosso, arancione, giallo. Chiudendo a Natale senza nessuna evidenza scientifica. Bar e ristoranti. E che in quei giorni saranno chiusi. Il governo ha stanziato, pensate un po', 645 milioni di euro per i ristori. Come la Germania, dice qualcuno. Ma la Germania, colleghi, ne ha stanziati 11 miliardi. Noi solo spiccioli. Come ha dichiarato Giorgia Meloni. Le chiusure decise devono comportare rimborsi certi. E noi domani mattina saremo a Piazza San Silvestro, accanto ai ristoratori e ai gestori di bar del Movimento Mio, perché scendono furiosi in piazza. Colleghi, veniamo a questo provvedimento, a questa legge di bilancio. I tempi sono sempre stretti. È stata presentata ovviamente il ritardo. E questo ne ha impedito una discussione costruttiva. Come ogni atto, un regime di monocameralismo alternato. Una camera esamina, l'altra ratifica. Un vero e proprio marchettibus. In questa manovra, vedete, poco è stato fatto per le categorie operanti nel mondo della cultura. La situazione di emergenza è ormai una situazione di difficile e continuativo presente. Per questo noi siamo sempre stati in prima fila, come Fratelli d'Italia, presentando emendamenti per più fondi e per lavoratori dello spettacolo. Qualche spicciolo per l'informazione e l'editoria. Lo denunciamo già nelle bozze circolanti. Pensate, la Francia di Macron ha aumentato i fondi per l'editoria da 800 milioni a 1,2 miliardi. Solo l'Italia non lo fa. Il sottosegretario Martella, che abbiamo sostenuto in questa azione di rivendicazione nei confronti del Governo per i fondi per l'editoria nazionale, da oggi verrà chiamato incudine. Perché chi Martella è Vito Crimi. Crimi è il primo nemico dell'editoria nazionale e dei giornalisti. Vi ricordate quando voleva chiudere Radio Radicale? Oggi vuole chiudere i giornali. Pur non occupandosi più del settore, continua a porre veti. Crimi ha la responsabilità e avrà la responsabilità di tutti i licenziati del settore editoriale, quando scadranno il blocco dei licenziamenti. Tutti i lavoratori del settore vadano a casa di Crimi a chiedere di farsi sostenere. Per poi non parlare dello sport, abbiamo presentato emendamenti a favore delle associazioni sportive e dilettantistiche, degli enti di promozione sportiva, per le società sportive e dilettantistiche, per maggiori fondi per indennità superiore ai lavoratori sportivi. Ieri, in un'edizione alla Camera, erano tutti contro il ministro Spadafora. C'erano le federazioni, c'era la maggioranza, c'era i Cinque Stelle, il PD, tutti contro questa legge delega. Fratelli Italia è da sempre attenta ai temi dell'innovazione, poi, come fatto in ogni provvedimento in questa legislatura. Abbiamo proposto un fondo per la sicurezza cibernetica, ma anche questo non è stato preso in considerazione. Non è stato approvato nulla per questi settori, nulla. A dimostrazione che l'opposizione non viene poi così tanto ascoltata, che non c'è questa unità nazionale. Anche quando fa proposte puntuali e precise, grazie a Fratelli Italia, come ha ricordato la collega Lucaselli, sono stati finalmente attribuiti fondi per le paritarie, per il settore vitini-vinicolo, per tanti altri settori produttivi a cui l'opposizione è sempre stata vicina. Colleghi, questo governo ha fallito. Il buonsenso ormai fa capire a tutti che è folle riporre fiducia nella capacità di Conte di condurre le vite degli italiani fuori da questo disastro. Deve andare a casa. Che dovete andare a casa non lo dicono solo i conti e le analisi. Lo dicono i ristoratori, lo dicono gli albergatori, lo dicono gli sportivi, lo dicono i cuochi, lo dice chi lavora nella cultura, lo dice chi lavora nella musica, chi lavora nelle mostre, chi lavora nei settori produttivi, lo dicono i ballenari, lo dicono i baristi, lo dicono i lavoratori della sicurezza, lo dice chi ogni mattina va negli stabilimenti produttivi delle aziende a lavorare perché gli hanno ridotto le oro e in cassa integrazione. 100 miliardi di scostamento e ci hanno fatto il bonus monopattino e il lucro sul Covid. Con 209 miliardi cosa faranno? Colleghi, concludo con una frase di Bertolt Brecht. Sì, non fa parte del nostro immaginario, ma è perfetta per questa situazione e la sinistra la cita sempre nei momenti più difficili della nostra Repubblica. Quando l'ingiustizia diventa legge, la resistenza diventa dovere.